Il segretario generale dell'ONU, il portoghese Antonio Guterres, ha aperto la 77esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro a New York. Nel suo discorso a 360 gradi, riferendosi ai leader mondiali presenti, ha dichiarato che il tempo stringe e che presto potrebbe non esserci più tempo per risolvere i tanti problemi del mondo. Abbiamo bisogno di un'azione su tutta la linea, non facciamoci illusioni, siamo in un mare agitato, un inverno di malcontento globale all'orizzonte, infuria la crisi del costo della vita, la fiducia si sta sgretolando, le disuguaglianze stanno esplodendo e il nostro pianeta sta bruciando, le persone soffrono e i più vulnerabili soffrono di più. Guterres ha sottolineato che l'industria dei combustibili fossili sta traendo vantaggi dalla situazione attuale, nonostante le responsabilità che ha nella crisi climatica. L'industria dei combustibili fossili sta banchettando con centinaia di miliardi di dollari in sussidi e profitti inaspettati, mentre i budget delle famiglie si riducono e il nostro pianeta brucia. Diciamo le cose come stanno. Il nostro mondo è dipendente dai combustibili fossili ed è tempo di intervenire. Dobbiamo rendere conto alle società di combustibili fossili e ai loro finanziatori. E questo include le banche, i gestori patrimoniali di private equity e altre istituzioni finanziarie che continuano ad investire e perciò ad inquinare. La guerra in Ucraina è in cima all'agenda dell'Assemblea generale. Nonostante il no della Russia, mercoledì interverrà il presidente ucraino Zelensky con un videomessaggio preregistrato.